benvenuti in questo nuovo video oggi non tratteremo canalizzazioni metafonia eccetera eccetera ma trattiamo un argomento molto particolare anzi due molto particolari uno è l'indulgenza plenaria per i vostri cari che parte dal primo novembre all'otto novembre e non tutto il mese intero perché comunque non c'è più lo stato della pandemia le restrizioni eccetera eccetera quindi come si fa come si ottiene cosa bisogna fare eccetera eccetera per avere l'indulgenza plenaria che cos'è poi anche l'indulgenza plenaria l'indulgenza plenaria è la rimessione totale dei peccati di un vostro caro che nell'altra dimensione qualsiasi è il suo livello astrale se è più basso più alto eccetera eccetera poi adesso spiego anche meglio la questione nel senso che se il vostro caro si trova in in un livello molto basso non si porta direttamente nella luce ma si cerca di pian piano step by step di salire in cielo nella luce chi è già nella luce si può fare lo stesso l'indulgenza plenaria al vostro caro ad esempio avete avuto un messaggio di metafonia che il vostro caro sta bene potete farla lo stesso che cosa succede in questo caso in questo in questo caso succede che l'anima il vostro caro del vostro caro essendo che comunque è nella luce riceve l'indulgenza plenaria papa dio gesù e la madonna semprevergene santissima che io la chiamo in per un determinato motivo molto semplice che io sono nato l'8 dicembre il giorno dell'immacolata io la chiamo in e verrà distribuita o data a un'anima sofferente quindi è un atto d'amore che voi fate al vostro caro se sia è nella luce che non è nella luce e di conseguenza chi è nella luce farà un atto d'amore verso un'altra anima quindi cosa bisogna fare cosa bisogna non fare eccetera eccetera adesso spiego dal primo all'otto novembre bisogna fare questo la cosa migliore esempio poi che ho fatto io ho fatto io cinque anni fa col mio papà è io mi sono trovato bene nel senso che sono andato un po prima a messa c'erano c'era il prete il paraco che faceva le confessioni vi confessate e dite tutte le marachelle che avete fatto non state confessando le vostre marachelle a chi vi è davanti ma state confessando tutto quello a papà dio perché il prete in questo caso è uno strumento come io sono uno strumento per fare metafonia e farvi ascoltare i messaggi del vostro caro è la stessa cosa dio lavora attraverso un prete che poi vabbè lasciamo perdere le questioni di preti e cioè avete capito è come papà dio usa la mia la mia bontà e il mio amore verso queste anime comunque vogliono parlare sono uno strumento per papà dio quindi confessarsi la prima cosa da fare se vi va bene che c'è vi confessate poi ascoltate la messa prendete l'eucarestia e poi dopo la messa vi fermate davanti o padre pio o una statua della madonna o davanti al crucifisso di gesù e recitate le preghiere e recitate le preghiere le preghiere da fare sta a voi nel senso se voi siete veramente religiosi e volete fare almeno un mistero quindi è padre nostro dieci avevi marie e gloria nel tramezzo nel mezzo nel mezzo delle delle preghiere chiedete a papà dio a gesù alla madonna o al santo che comunque vi fa piacere nominare in quel momento il nome e il cognome del vostro caro che volete chiedere l'indulgenza plenaria e dite nome e cognome voglio chiedere l'indulgenza plenaria per questo questo persona anima poi alla fine dovete fare anche la preghiera del del santo padre cioè è il padre nostro l'ave maria il gloria e salve regina cioè l'intenzione del santo padre e poi basta così non non è che ci vuole tanto l'importante che fate questa cosa in una chiesa in un cimitero in una basilica non monastero luoghi dove comunque si respira serenità pace e amore io sconsiglio il cimitero la chiesa dice ok il cimitero però io lo sconsiglio il cimitero cioè se siete in una chiesa in una parrocchia cioè in una basilica in un monastero eccetera eccetera per me è ancora meglio perché io ho fatto così nel senso io sono andato sono andata a messa ho avuto la fortuna che comunque c'erano le confessioni mi sono confessato ho seguito la messa ho preso le carlestie poi mi sono messo davanti al crocefisso di gesù ho pregato per il mio papà e mi raccomando non sbagliate le parole perché è molto importante non sbagliare le parole che delle preghiere che voi fate che se no vi tocca ricominciare da capo perché se no non funziona io ho avuto forse la fortuna chiamiamo la fortuna ho fatto l'indulgenza plenare al mio papà esco faccio le mie cose e prendo la macchina esco vengo a casa stavo per mettere la macchina in garage scendo esso in ton odore di fumo mi giro intorno io non fumavo io sono un fumatore io non fumavo non c'era nessuno e vicino a me che fumava e all'improvviso mi sono ricordato il profumo di questa sigaretta il profumo di questa sigaretta era quella che fumava mio papà che è un profumo profumo puzza diciamo indimenticabile e lì ho detto caspita che odore di fumo e lì ho messo dentro la macchina e me ne sono andato è successo dopo neanche un mesetto un mesetto e mezzo stavo facendo metafonia arriva un messaggio dal mio papà spontaneo perché io non chiamo mai il mio papà se vuole venire spontaneamente ben venga come succede spesso che ormai va a casa della mia amica gli bussa senti guarda solo io voglio mandare un messaggino a mio figlio e niente arriva questo messaggio che dice testuali parole sto crescendo in cielo ma che roba stupenda la spiegazione di questo messaggio è che lui ovviamente stava crescendo in cielo nel senso dopo la mia indulgenza plenaria fatta mio papà fatta per mio papà lui dai posti bui in cui era da ormai 25 anni 24 25 anni meno male stava elevandosi in cielo e stava vedendo il cambiamento di del paesaggio astrale che lui stava vedendo e piano piano stava arrivando in cielo e diceva va che roba stupenda va che bello che è qui e adesso vi racconto una piccola cosa che mia mamma ha fatto gli anni il 29 giugno mio papà va a bussare a casa della mia amica dice guarda sono io voglio mandare un messaggio a mia moglie e l'ha fatta penare per cercare un fiore molto particolare e gli dice alla mia amica non riesco non riesce a trovare un fiore adeguato è stupendo come li abbiamo noi qui cioè la la bellezza il paragone di quello che vediamo noi qui è forse un centesimo è un centesimo un mille un miliardesimo di diversità di quello che c'è dall'altra parte ma io parlo dall'altra parte nei piani astrali superiori nella luce e quindi lì ci fa capire anche che noi quello che vediamo qui potrebbe essere forse la cosa più bella nel mondo forse è la cosa più brutta nell'aldilà ma sempre sto parlando delle parti più alte non più basse perché le cose più basse sono veramente brutte io le ho viste sono andato una volta nel di là nei piani astrali più bui ho visto una palude ho raccattato un'anima che praticamente era in mezzo al fango in una palude che la stavo cercando di portare via da quel posto lì comunque l'indulgenza plenaria funziona così mi raccomando dal primo all'otto confessione vi ascoltate la messa e eucaristia poi dopo vi fermate fate le vostre preghiere le intenzioni del santo padre e guardate sicuramente viene accettata ovviamente ci vuole tanto amore e tanta coscienza nel senso che quando recitate le preghiere pensate al vostro caro lo fate come atto d'amore non è che il padre no assolutamente no ci deve essere fede ci deve essere amore ci deve essere un qualcosa che dà la miccia diciamo per far tramutare tutta questa cosa in un'esplosione di amore e di allegria felicità per il vostro caro quindi per tutte quelle persone che sono religiose e hanno avuto un messaggio al proprio caro che non sta bene mi raccomando dal primo all'otto novembre l'indulgenza plenaria ok piccolo appunto sulla festa di halloween che manca qualche giorno non festeggiate mi raccomando questa cosa un passo indietro ho postato su adamo paranormal e su anime sante no su allora su anime sante ho postato il va da me con come ottenere l'indulgenza plenaria invece su adamo paranormal ho postato la questione di no festeggiare halloween ho messo un'intervista un esorcista e che praticamente oltre che essere una festa pagana bisogna capire tante cose comunque quella notte lì è il giorno più brutto su questa terra nel senso che in quella notte girano gli angeli caduti che sono in cerca di possessioni che poi vi rimangono anche per anni nel senso non festeggiate questo inno al maleficio cioè sì ho capito lo so che voi dite ma sì ci si vestono i bambini e di qui le caramelle sì ma comunque come si vestono i bambini non è che si vestono da biancaneve sette nani si vestono praticamente da roba dell'orrore da oro con sangue denti eccetera eccetera quindi io sta cosa non l'ho mai festeggiata come il carnevale io non l'ho mai festeggiato l'ho festeggiato solo da piccolo la stessa cosa vale anche per il carnevale non è che però il tre il fine ottobre la notte di halloween è un massacro veramente più totale cioè quindi fate molta attenzione anzi pregate perché ci saranno veramente dei guai io so di che cosa sto parlando perché anni fa qualcuno ha registrato in quella notte e abbiamo sentito cose veramente assurde e porto e purtroppo non si possono apportare nei social queste cose perché comunque c'erano urli c'erano c'erano tante cose comunque vabbè comunque e mi raccomando chi fa metafonia non fate metafonia in questi giorni perché è veramente pericoloso oltre agli angeli caduti girano esseri bidimensionali tra cui il lux il lux che cosa fa è come un demone si in possesso del vostro corpo quindi c'è già qualcuno che purtroppo non ha capito ma ha un lux nel suo corpo ma per carità non ci è arrivato e penso che non ci arriverà mai perché mettere a capo di un gruppo una persona che comunque ha scritto e fatto messaggi veramente imbarazzanti no way e no sense che vorrebbe insegnare spiritualità ma non esiste questa cosa che va bene comunque chiudiamo questo discorso e va bene comunque allora passaggi molto semplici e chiari per l'indulgenza plenaria mi raccomando la notte di Halloween non festeggiate anzi è meglio pregare perché ci saranno parecchi parecchi casini ecco insomma ecco e niente torneremo tornerò a fare a postare video di di metaforie adesso dobbiamo devo vedere un paio di cose perché in due sessioni sono in una sessione c'è una cosa molto particolare che da chiarire in un'altra sessione c'è un'altra cosa ancora molto più particolare da capire quindi adesso questa settimana dobbiamo disturberò la mia amica almeno per una prima per una persona e poi per una seconda persona e niente mi raccomando è importantissimo all'indulgenza plenaria fatela fatela anche se non siete religiosi e religiosi vi costa poco andate una volta a messa vi confessate ascoltate la messa eucaristia fate quattro preghiere non è che vi costa chissà che cosa non è che vi sto chiedendo un milione di dollari vi sto chiedendo fate l'indulgenza plenaria al vostro caro anche se sta bene non ci vuole tanto ragazzi una volta dovete farlo non è che ve la sto chiedendo tutti i giorni e niente e non festeggiate halloween e niente alla prossimo video vi mando un forte abbraccio